Oggi inizio con lo spiegarvi come sia possibile associare ad un checkbox un'immagine. Ai fini dell'utilizzo, un clic sull'immagine equivale al clic sul checkbox. Ve lo mostro con un nuovo checkbox, in modo da poter vedere la procedura da zero. Probabilmente vi conviene eliminare il testo in modo da avere più agilità nel disporre l'immagine. Diversamente avreste qualche problemino di intersezione o sovrapposizione tra l'immagine e il testo dell'etichetta. Ecco perché ho cancellato quindi il contenuto della proprietà text. Adesso per associare l'immagine abbiamo due possibilità. La prima, agganciare direttamente un'immagine tramite il suo file su disco. La seconda è impostare una lista di immagini da utilizzare poi in modo condiviso tra vari elementi che sono sulla form. Menu, listbox, combo box e così via. Con la facilità di un'indicizzazione tipo vettore, che permette più facilmente di distribuire in modo programmatico queste risorse, queste immagini, sui vari elementi, sui vari controlli visuali della forma. Delle checkbox andate poi a localizzare la proprietà image, ora impostata su nessuno. Potrete rifare poi clic sul bottone con i tre puntini di sospensione, l'ipsis. E dal pannello che apparirà avrete la possibilità o di agganciare il file fisico dell'immagine a una cosiddetta risorsa locale o a una risorsa di progetto. E ora vi spiego la differenza. Cominciamo con la risorsa locale. Il bottone per individuare su disco l'immagine è ovviamente in porta. Qui semplicemente andrete a localizzare, in una qualche cartella su disco, l'immaginetta che vi sarete preventivamente preparati. Facciamo finta questa, doc. Dove finisce l'immagine? Confermate intanto con ok. E non preoccupatevi se non vedete l'immagine o la vedete parzialmente, perché vuol dire che dovreste andare semplicemente, ho rifatto clic sul checkbox, a configurare la proprietà auto-size del checkbox stesso e metterla su false, perché quando è true lo fai in automatico, vedete che l'iconcina del documento di testo non si vede tutta. Viceversa, se sono io a poter scegliere la dimensione, faccio quello che mi pare piace. Andate a controllare qua nel pannellino Esplora soluzioni. Viso Studio può gestire alcune risorse come immagini, audio, ma anche stringhe, in file che incorporano quella risorsa direttamente nel progetto, o che al limite linkano la risorsa esternamente su disco. Ma abbiamo due livelli. Scegliendo risorsa locale, l'immagine, o la risorsa in generale, viene incorporata a livello di form. Infatti, guardando qua in Esplora soluzioni, sotto il ramo di form, trovate questo form1.resix.resource.file e se lo aprite, con un doppio clic, ci ritrovate in pratica tutte le immagini che avete collegato nel modo che mi avete appena visto provare. La risorsa, si dice anche che è tipizzata, nel senso che non è un'immagine, o un audio, o quello che è così generico, ma è associato al tipo di dato per il quale è stata usata. È un checkbox 4.image, non semplicemente un nome di file su disco. Internamente poi vengono gestiti automaticamente i collegamenti con la risorsa fisica. Non solo, avete anche la possibilità di decidere il tipo di persistenza di questa risorsa, qua sulla destra. Incorporato in punto resix vuol dire che, in pratica, l'immagine viene incorporata direttamente nel file di risorsa. Mentre, e quindi diventa un organo interno del programma. Viceversa, potete scegliere collegato in fase di compilazione, che, come suggerisce il nome, quindi farà riferimento all'immagine presente su disco, quindi scorporata poi dal progetto. Ovviamente se poi l'immagine viene cancellata da disco, se non è stata invece incorporata direttamente nel file di risorse, avrete dei problemi. Io lascio i valori default, quindi torno a incorporata in punto resix. Per dare concretezza a quello che vi ho appena spiegato, provate ad andare nella cartella del progetto. Troverete proprio questo form1.resix. Apritelo senza problemi. È un file di testo. Ma, scorrendolo, ad un certo punto, troverete proprio l'immagine codificata e che è associata al nome del controllo che la sta utilizzando. Vedete, checkbox1.image. E questa è la codifica di quell'immagine. Quindi non scherzavo quando dicevo incorporata direttamente nel progetto. E come ho accennato pochi minuti fa, non sono solo le immagini a poter essere trattate in questo modo, ma facendo clic qui, anche stringhe, descrizioni, icone, file audio, file generici o altri oggetti generici. Però non c'è tempo di approfondire. In fondo questo è comunque un corso abbastanza tagliato, ma di livello introduttivo, non da esperti programmatori. Incorporare o collegare a livello di form una risorsa ha il vantaggio di poter svincolare il suo uso da altre form. Per cui potrei copiare una form e ritrovarmi una copia di quel file di risorse e differenziare, senza aver timore di andare a interferire con la prima form. Viceversa, c'è ovviamente uno spreco di spazio, soprattutto se la risorsa è consistente. Ecco perché c'è un altro livello di incorporazione o di collegamento esterno su file, che è quello a livello non di form, ma di intero progetto. Cioè, spiegate con parole semplici, così come c'è un file di risorse per ogni singola form, che è privato di quella form, ce n'è uno che è invece condiviso su tutto il progetto. E lo trovate qua, nell'esploro soluzioni. Properties, questo è resources.resix. Adesso provo ad agganciare l'immagine per il checkbox con questa seconda modalità. Torno sulla proprietà image, clicco, questa volta poi scelgo file di risorse del progetto, properties, properties, resources.resix. Io qua trovo già PP perché è la mia prova precedente, ma è facile capire che basta fare clic su importa, questa volta provo con l'audio. Benissimo. Ok. Andiamo a curiosare su disco. Questa è la cartella del progetto. Properties, si diceva. E qui c'è una cartella chiamata properties. La apriamo, ed ecco che troviamo il corrispondente del form 1.resix di prima, ma a livello di progetto, il resources.resix. Apritelo con un doppio clic. È ancora un file in formato XML, perché sa un pochino di che cosa si tratta. E siccome abbiamo scelto la forma collegata per la risorsa, non è stata incorporata come prima all'interno del file di risorse stesso, ma ci sarà un riferimento alla cartella su disco. Ed ecco in fondo, ce ne erano due, il vecchio PP, JPG, ecco anche il suo PEF relativo all'eseguibile, e quello che ho appena aggiunto. Ok. Ora chiudo, torno sul file di risorse di progetto, resources.resix, cambio la forma di persistenza per l'audio. da collegato in fase di compilazione a incorporato in Resix. Faccio partire, giusto per far compilare il tutto, torno ad aprire il mio resources.resix, già lo capisco perché qua posso scorrere molto di più, non ho più semplicemente un link per l'audio al file immagine esterno, ma quell'immagine è stata codificata secondo il suo Meme Type di immagine e incorporata, eccola qui, e tipizzata. Quindi questo è diventato il checkbox image. Benissimo. Adesso quindi sapete dove vanno a finire le immagini che vengono agganciate o a livello di form, in form1.resix, o a livello di progetto in quel resources.resix. E la forma può essere o linkata, lasciando esternamente l'immagine nella sua forma binaria nativa, o incorporata direttamente nel file di risorse e codificata addirittura in un file di testo. Chiudo questa doverosa parentesi, anche perché serve per tutti i controlli visuali, per questo che ci ho speso un po' di tempo. Chiudo, chiudo anche questo, torniamo alla nostra form e alla nostra immagine. La proprietà che segue è l'image align, permette chiaramente di decidere un po' la posizione relativa dell'immagine rispetto al checkbox, fate voi qualche prova, è veramente banale. mentre per spiegarvi queste tre proprietà devo introdurre un'altra cosa, perché non fanno direttamente riferimento a image, o meglio, in modo indiretto. Ma questo lo vedremo nel prossimo video. A risentirci. A risentirci. Alla prossimo video.